Eccoci qua, bentornati a una finestra sul mondo e continua la nostra avventura insieme e oggi parliamo di animali. E sì, perché chi è che a casa non ha un cane, un gatto, un pesciolino, un uccellino? Insomma, tutti noi amiamo accerchiarci di animali, insomma, e quindi oggi vogliamo fare un piccolo approfondimento su questo argomento. Pensate che secondo alcuni studi in Italia ci sono circa 60 milioni di animali, quindi sono tantissimi. Praticamente un italiano su due ne possiede almeno uno. Il 62% degli italiani possiede un cane, il 55% invece ha un gatto e infine il 27% ha scelto volatili o animali esotici. Ma la domanda è questa, perché abbiamo così bisogno di un animale domestico? I motivi sono molti, ma sicuramente vogliamo un cane o un gatto per sentirci meno soli. Poi convivere con un animale domestico fa sicuramente bene anche alla nostra salute. Gli vogliamo tenere presente non solo il nostro benessere, ma soprattutto il loro. Il cane, per esempio, non può essere lasciato da solo per troppo tempo, così come il gatto, anche se lui a volte preferisce avere dei momenti in tranquillità, insomma, vuole star tranquillo. Dunque, sì, possiamo però fare sempre riferimento al nostro veterinario di fiducia, che sicuramente potrà spiegarci quali sono le esigenze dell'animale. Quindi facciamo sempre affidamento a lui. A volte però può essere un problema portare con sé il proprio animale domestico, perché non gli è permesso entrare in tutti i luoghi pubblici. La legge dice che i cani possono essere portati nelle vie e negli altri luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o con la musaruola, e questo mi sembra giustissimo. Però non possiamo portare il nostro animale domestico nei luoghi dove si preparano, si trattano e si conservano gli alimenti. È ok. Al ristorante, invece, è il proprietario del locale che decide se far entrare gli animali oppure no. Così come succede negli stabilimenti balneari e negli alberghi. Poi posso portare il mio animale su tutti i mezzi pubblici, però è meglio sempre tenersi informati sui regolamenti delle singole aziende addette ai trasporti, perché potrebbe esserci qualche azienda appunto di trasporti che non vieti l'accesso ai cani sui mezzi pubblici. E poi, pensate, anni fa succedeva che in alcuni comuni non si potesse accedere ai parchi e giardini pubblici con il proprio cane. Ci sono state moltissime proteste dei cittadini, giustamente, e oggi per fortuna la situazione è cambiata. Però i proprietari dei cani o gatti eccetera devono sempre tenere presente che bisogna vigilare sul comportamento del proprio animale domestico e raccogliere le eventuali deiezioni. È importante anche per la pulizia delle nostre città. Tutte queste regole ovviamente non valgono nel caso in cui si tratti di un cane guida per i povedenti. Ok? In questo caso si può accedere a qualsiasi luogo pubblico e ci mancherebbe altro. C'è però un grosso problema che da sempre è presente nella nostra società. L'abbandono degli animali. Pensate che in Italia ogni anno vengono abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, delle cifre terribili, spaventose, e si stima che più dell'80% rischia di morire in incidenti, di stenti o di maltrattamenti. Gli animali vengono spesso abbandonati durante l'estate oppure all'apertura della stagione di caccia. Bisogna ricordarsi che l'abbandono degli animali è un reato, punito con l'arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro. Bene, abbiamo parlato di questo argomento e anche di altre tematiche al mercato di Rivarolo. Il nostro inviato è andato un po' in giro a parlare con le persone e ha intervistato anche i loro animali domestici. Vediamo un po' cosa è successo. Ama gli animali domestici e perché? Li amo perché fondamentalmente sono come me. Hanno bisogno di attenzioni, hanno bisogno di essere trattati con rispetto e quindi è molto più facile con loro. Assolutamente sì, perché sono di compagnia e poi con i bambini piccoli diciamo che è una terapia ideale. Perché ti danno tutto quello che possono darti e non chiedono quasi niente, insomma. Certo che li amo. Io amo gli animali in generale. Perché? Perché sono degli esseri speciali, sensibili, di tutto di più, insomma. Perché una compagnia è una soddisfazione e ti danno tanto. E ti danno tanto. Ma perché se non fanno tanta compagnia e poi sono molto affettuosi. Le è mai capitato di adottare un cane e un gatto? Adottare no, l'abbiamo sempre comprato. No, no, no. Li abbiamo presi ma non adottati, no? Adottare, sì, sì, sì. Al canile, a vedere di adottarne uno, perché ne avevo già un altro. Ed è arrivato lui. Sì, sempre. Ho avuto sempre cani e gatti, fin da quando ero piccola. Lei è adottata. Anche altri cani che ho avuto prima. Sempre, diciamo, casi canile, casi, diciamo così, di emergenza, disperati, cani abbandonati comunque. Secondo lei sarebbe giusto permettere l'ingresso a tutti gli animali domestici in tutti i locali pubblici? Sì, sono educati senz'altro, però devono essere animali educati, abituati a socializzare, questo sì. Molti animali non lo sono, però. Beh, certo, sì, sì. Sono molto più educati di tanti umani, sì, sì. Lì, cioè, io direi di sì, però ci sono tante persone che sono anche allergiche agli animali, al pelo, e anche quello bisogna stare un attimo attenti. Sì, perché no? Se non danno fastidio, perché no? Io la porto sempre dappertutto, veramente. Sì, fondamentalmente sì, non proprio tutti, perché capisco delle esigenze, però sì, diciamo. L'animale, se sta con l'uomo e impara a comportarsi decentemente, può essere portato, secondo me, tranquillamente. Adeguatamente, come dire, protetti, sì. Adeguatamente, insomma, che siano puliti. E quando lei va in vacanza, a chi lascia il suo animale domestico? Sempre, sì. Cerco prima una pensione per tenerlo. Sempre. Piuttosto non vado in vacanza, se non posso portarlo. Non si risponde nemmeno a una domanda simile, viene con me. Ovunque, ovunque. Non se ne parla neanche di uscire senza di lei. Me lo porto, siamo appena rientrati e lui è stato con noi due settimane. No, non lo lascio, lo porto. È successo una sola volta e l'abbiamo lasciato con mia figlia. Che cosa vorrebbe dire a tutte quelle persone che purtroppo abbandonano gli animali? Che sono dei cani. No, dei cani. Che sono dei mostri, perché chiamarli animali no, ma mostri sì. Che non le considero nemmeno esseri viventi. Le considero... ci sono tante ragioni per cui possono essere... portarti ad un gesto del genere, ma nessuna è buona. Ce n'è sempre una di più per non commettere un gesto simile. Ci sono tante soluzioni, oltretutto adesso. Penso che comunque prima di abbandonare un animale ci sono mille altre possibilità. Ebbè, quelle sono dei vigliacchi. Sono delle cose che non bisogna fare, assolutamente non sono concepibili. Quella è da galera, quella è assolutamente da galera. È da punire, incredibile. Mi devo contenere, perché... No, vabbè, direi di essere... Di imparare un po', essere più sensibili, di sentire... Di sentire il loro dolore nell'abbandonarli. Allora, tutti ovviamente amano gli animali, perché sono degli esseri speciali e fanno tanta compagnia. Poi a diverse persone è capitato di adottare dei cani o dei gatti che si trovavano all'interno di canili o gattili. E mi raccomando, dobbiamo sempre sostenere queste strutture, perché a volte si trovano davvero in grandi difficoltà. Essendoci tanti animali abbandonati, devono dare da mangiare e pulire tutti questi animali. Quindi mi raccomando, sosteniamo queste strutture. E poi, insomma, tutti sono d'accordo sul fatto che il cane o il gatto possa entrare nei luoghi pubblici, a patto che, ovviamente, siano ben educati e che non diano fastidio agli altri. Questo è importante. E poi è una cosa che davvero bisogna prendere come esempio è che quando vanno in vacanza ci hanno raccontato che se possono portano con sé il proprio animale domestico, altrimenti non vanno proprio in vacanza. Questo è molto importante. Prendiamolo come esempio, mi raccomando. E infine a tutti quelli, insomma, che osano abbandonare gli animali dicono che sono dei monstri, dei vigliacchi e senza cuore, ovviamente. Concluderei con una frase di un celeberrimo filosofo, parlo di Schopenhauer, che a proposito di animali disse l'amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Ciao!